canto di natale terza strofa il secondo dei tre spiriti svegliandosi al rumore del suo fragoroso russare sedendosi sul letto per riordinare i suoi pensieri scrooge non ebbe bisogno di essere avvertito che la campana stava di nuovo per battere luna comprese che gli era stata ridata coscienza proprio in quell'attimo perché doveva avere un colloquio col secondo messaggero inviato l'iperintercessione di jacob marley ma accorgendosi che stava molto inopportunamente prendendo freddo cominciò a domandarsi quali delle cortine il nuovo spettro avrebbe scostato finì per scostarle tutte con le sue stesse mani poi si ributtò a giacere e prese a scrutare attentamente tutto intorno al letto voleva infatti affrontare lo spirito al momento stesso della sua apparizione e desiderava non essere colto di sorpresa esistono gentiluomini del genere facilone che si vantano di conoscere ogni mossa del gioco della vita e che essendo generalmente l'altezza di ogni evenienza hanno una grande opinione delle proprie capacità e dichiarano di essere sempre pronti a qualsiasi cosa dal buttare un soldo per aria fino a commettere un omicidio tra questi due estremi esiste un vasto campo che può comprendere i soggetti più svariati senza aggiungere a tanto a proposito di scrooge vi prego di credere che egli si sentiva preparato alle apparizioni più straordinarie e che niente fra un neonato e un rinoceronte lo avrebbe ormai stupito granché ma pur essendo preparato a tutto non era assolutamente preparato al nulla di conseguenza quando la campana battelluna e nessuna forma apparve fu preso da una violenta crisi di tremito cinque minuti dieci minuti un quarto d'ora passò e ancora niente durante tutto questo tempo giacque nel suo letto il quale da quando l'orologio aveva abbattuto l'ora si trovava a essere centro e cuore di una fiammata di luce rossastra che lo circondava quella luce in sé era più preoccupante di una dozzina di spettri dato che scrooge non riusciva a capire che cosa significasse o che cosa volesse temette per un momento che potesse trattarsi di un caso di combustione spontanea ma senza avere la consolazione di saperlo con certezza finalmente però cominciò a pensare come voi o io si sarebbe pensato fin dal principio perché è sempre la persona non interessata a quella che sa ciò che dovrebbe essere fatto e lo fa finalmente dico cominciò a pensare che il segreto e la sorgente di quella luce speciale potessero trovarsi nella camera accanto dalla quale seguendo nella traccia la luce sembrava irraggiare quando queste ideali si ficcò in testa si alzò senza far rumore e ci abbattò piano piano in pantofole fino alla porta nell'istante in cui la sua mano toccava la maniglia una strana voce lo chiamò per nome e lo pregò di entrare obbedì si trovava proprio nel suo salotto su questo non vera dubbio ma l'ambiente aveva subito una sorprendente trasformazione i muri del soffitto erano coperti di rami verdi tanto da assomigliare a un vero e proprio boschetto tutto luminoso di lucide bacche le foglie dentellate dell'agrifoglio del vischio e dell'edera riflettevano la luce come se tanti piccoli specchi fossero stati sparpagliati dappertutto e una potente fiamma saliva ruggendo su per il camino una fiamma quale quel buio e desolato focolare non aveva mai conosciuto ai tempi di scruggie di marley in tanti tanti inverni passati accatastati per terra a formare una specie di trono vi erano tacchini oche cacciagione pollame salame grandi pezzi di carne porcellini di latte lunghe collane di salsicce pasticci di carne budini bariletti di ostriche castagne calde mele dalle guance rosse arance sugose pere lustre immense focacce e fumanti tazze di ponch che annebbiavano la camera con loro delizioso vapore su questo giaciglio stava comodamente seduto un allegro gigante magnifico a vedersi teneva in mano una torcia splendente di forma simile a quella del corno dell'abbondanza e la teneva alta così che la sua luce investì scrooge quando egli fece capolino dall'uscio entra ordinò il fantasma entra impara a conoscermi amico scrooge obbedì timidamente e chinò la testa davanti allo spirito non era più il burbero scrooge di una volta e benché gli occhi del gigante fossero limpidi e benevoli rifuggiva dall'incontrarli sono il fantasma di questo natale disse lo spettro guardami scrooge obbedì con deferenza era drappeggiato in una tunica o mantello verde orlato di pelliccia bianca drappeggiato così negligentemente che il suo capace petto era nudo come se disdegnasse di essere protetto coperto da qualsiasi artificio i suoi piedi che spuntavano sotto le ampie pieghe dell'indumento erano pure nudi sulla testa non aveva altro che una corona d'agrifoglio ornata qua e là da lucenti ghiaccioli sulla sua bruna fronte i riccioli cadevano lunghi e liberi liberi come il suo viso simpatico i suoi occhi scintillanti le sue mani aperte la sua voce allegra il suo semplice atteggiamento le sue maniere cordiali e la sua aria sorridente dalla vita gli pendeva un vecchio fodero di spada mezzo mangiato dalla ruggine e senza spada non hai mai visto nessuno simile a me vero no mai rispose scrooge hai mai frequentato nessun giovane membro della mia famiglia intendo dire perché io sono molto giovane i miei fratelli maggiori nati in questi ultimi anni seguito al fantasma non credo disse scrooge temo proprio di no e i molti fratelli spirito più di ottocento disse il fantasma bella famiglia da mantenere borbottò scrooge il fantasma dei giorni di natale si alzò spirito disse scrooge con sottomissione portami dove vuoi ieri notte sono stato trascinato con la forza ma ho imparato una lezione che comincia a portare i suoi frutti se hai qualcosa da insegnarmi sono lieto di approfittarne tocca il mio manto scrooge fece quanto gli era comandato e si afferrò al mantello agrifoglio vischio bacche rosse edera tacchini oche cacciagione pollame salami carne porchetti salsicce ostriche budini pasticci frutta e ponche tutto sparì come pure sparirono stanza fuoco luce rossastra e ora notturna ed essi si trovarono nelle vie della città in una mattina di natale il tempo era rigido la gente faceva un allegro chiasso spalando la neve davanti alla porta delle case e dal tetto da dove precipitava nella strada e si sparpagliava in tante piccole artificiali tempeste di neve con grande giubilo dei ragazzi le facciate delle case apparivano nere e le finestre ancora più nere in contrasto con il candido lenzuolo disteso sui tetti e con la neve un poco sporca del suolo quest'ultima infatti mostrava i profondi solchi delle pesanti ruote dei carri e dei furgoni solchi che si incrociavano e si rincrociavano centinaia di volte dove le strade principali si diramavano formando degli intricati profondi canali difficili da seguire con quel fango spesso e giallastro e l'acqua congelata il cielo era nuvoloso e le strade più strette erano affogate in una bruma mezzo gelata e mezzo liquida che lasciava cadere le sue particelle più pesanti in una pioggia di bruscoli fuliginosi come se tutti i cammini della gran bretagna avessero preso fuoco tutti assieme e vampassero allegramente non vi era nulla di piacevole né nel clima né nella città eppure aleggiava dappertutto un'aria d'allegria quale la più serena giornata estiva il più splendente sole avrebbero in vano cercato di creare infatti coloro che spalavano i tetti erano gente cordiale e piena di buon umore si chiamavano null'altro dalle gronde scambiandosi di quando in quando scherzose palle di neve scherzi più innocenti di molte facezie verbali e ridevano di cuore se i proiettili arrivavano a segno e non meno di cuore se non arrivavano i negozi di pollivendolo erano ancora aperti a metà mentre quelli dei fruttivendoli raggiavano in tutto il loro splendore si vedevano ceste grandi rotonde e panciute di castagne della forma dei panciotti di quei vecchi gentiluomini giovialoni che oziano sull'uscio di casa loro e poi trottolano per la strada con la loro apoplettica corpulenza rustiche cipolle spagnole di pelle bruna grasse illustre come frati spagnoli nella pienezza della loro maturazione occhieggiavano dagli scaffali con provocante furberia alle ragazze che passavano e alzavano gli occhi al vischio appeso al soffitto vi erano pere e mele ammucchiate in alte piramidi appetitose vi erano mannelli di grappoli d'uva che per la delicata attenzione del negoziante dondolavano da grossi ganci perché la gente che passava potesse avere gratis l'acquolina in bocca vi erano mucchi di nocciole muschiose e brune che con la loro fragranza facevano ricordare antiche passeggiate nei boschi il piacevole frusciare delle foglie secche alte fino alla caviglia mele cotte del norfolk grasse e scure mettevano in risalto il giallo delle arance e dei limoni che sodi nel loro sugoso aspetto chiedevano e supplicavano di essere urgentemente portati a casa in sacchetti di carta e mangiati a pranzo gli stessi pesci d'oro ed argento messi in mostra in brocche fra tanta frutta pregiata per quanto membri di una razza ottusa e di sangue stagnante sembravano sapere che qualcosa stava succedendo e giravano aprendo e chiudendo la bocca torno torno al loro piccolo mondo con pacifico orgasmo e le drogherie o le drogherie erano già quasi chiuse e solo qualche imposta rimaneva alzata ma quali visioni si godevano attraverso quelle aperture non era solo il gaio rumore delle bilance che ricadevano sui banchi il fruscio dello spago che scorreva sul suo rullo e se ne separava con tanta allegra animazione nel tintinio dello scatolame che si urtava con il rumore che fa un giocoliere con i suoi attrezzi e neanche l'aroma del tè e del caffè tanto grati all'odorato e nemmeno le uve passe tante e rare le mandorle bianchissime le stecche di cannella così lunghe e diritte le altre spezie così deliziose i frutti canditi così glassati e così spruzzati di zucchero da fare in modo che anche i passanti più indifferenti si sentissero svenire e poi si nervosissero a quella vista non erano neppure i fichi secchi succosi e polposi o le modeste prugne francesi asprigne nelle loro decoratissime cassette non erano tutte quelle buone cose nella loro veste natalizia erano i clienti tutti così pieni di fretta e così ansiosi di quello che si ripromettevano da quel gran giorno si pigiavano alla porta urtandosi violentamente con i loro panieri di vimini lasciavano i pacchi degli acquisti sul banco tornavano indietro di corsa a riprenderli e commettevano centinaia di errori simili col migliore umore del mondo mentre il droghiere e i suoi commessi si dimostravano tanto cordiali e franchi che i lucidi ganci a forma di cuore coi quali essi si assicuravano i grembiuli sul dorso avrebbero potuto essere i loro propri cuori portati in bella vista affinché tutti potessero ispezionarli o perché le gazze numerose a natale potessero beccarli al loro piacimento ma presto il campanile chiamò i fedeli alla cappella e alla chiesa ed essi uscirono a frotte per le strade con i loro vestiti da festa e i loro visi più lieti nello stesso tempo da strade laterali straducole e vicoli senza nome emerse una folla che portava nei canestri il suo pranzo a cuocere al forno la vista di questi poveri in festa sembrò interessare moltissimo lo spirito il quale dopo essersi fermato con scrooge sull'uscio di un rosticcere alzava tutti i coperchi dei recipienti via via che gli passavano davanti e ne spruzzava il contenuto con l'incenso della sua torcia e doveva trattarsi di una torcia straordinaria perché un paio di volte quando nacquero piccoli litigi fra alcuni clienti che si erano urtati egli versò loro addosso qualche goccia e subito il loro buon umore tornò sarebbe stata una vera vergogna litigare il giorno di natale dicevano e così era dio lo sa che era così a poco a poco le campane tacquero le rosticcerie si chiusero ma una piacevole scia di tutti quei pranzi che stavano cuocendo aleggiava nell'aria nelle chiazze umide e scure che si erano formate al di sopra di ogni forno dove la strada fumava quasi che pure le sue pietre stessero cuocendo c'è qualche aroma particolare nelle gocce che spruzzi dalla tua torcia domandò scrooge certo il mio aroma si adatta ad ogni sorta di pranzo in questo giorno domandò scrooge ogni sorta di pranzo offerto con cordialità e specialmente al più povero perché specialmente al più povero perché è quello che più ne ha bisogno spirito disse scrooge dopo un momento di riflessione mi stupisce che fra tutti gli esseri dei tanti mondi che ci circondano proprio tu desideri privare questa gente della possibilità di un piacere innocente io esclamò lo spirito sì tu che vorresti privarli dei mezzi di pranzare ogni settimo giorno il solo giorno cioè nel quale spesso possono permettersi di pranzare sul serio non è forse così disse scrooge io esclamò il fantasma cercando di far chiudere questi posti il settimo giorno disse scrooge ottieni questo risultato io lo cerco scusami se sbaglio ma questa imposizione è fatta in tuo nome o almeno in quello della tua famiglia fece scrooge qualcuno in terra replicò lo spirito proclamando di conoscerci e di operare il nostro nome agisce secondo le sue passioni il suo orgoglio la sua cattiva volontà il suo odio la sua invidia il suo bigottismo il suo egoismo ma è estraneo a me e miei simili come se non fosse mai esistito ricordati di questo e rendi quei tali responsabili delle loro azioni non noi scrooge promise poi insieme proseguirono invisibili come sempre verso i soborghi della città una facoltà particolare del fantasma scrooge aveva potuto osservarla dal fornaio era quella di riuscire ad accomodarsi con facilità in qualsiasi posto nonostante la sua gigantesca mole poteva ficcarsi sotto un tetto bassissimo con la medesima grazia di creatura soprannaturale con cui poteva stare in un alto e spazioso vestibolo non si sa se fu il piacere che il buon spirito provava nel mostrare questo suo potere o la sua natura gentile generosa cordiale e la sua simpatia per la povera gente a condurli direttamente alla casa del commesso di scrooge fatto sta che lì si diresse portando sempre scrooge attaccato a suo mantello sulla soglia lo spirito sorrise e si fermò a benedire la dimora di bob cratchit con le scintille della sua torcia pensate un po bob guadagnava solo 15 scellini la settimana il sabato incassava soltanto 15 esemplari del suo nome di battesimo eppure il fantasma dei doni di natale benediceva il suo alloggetto di quattro stanze allora la signora cratchit si alzò rivestita con un povero abito rivoltato già due volte ma tutta agghindata di nastri che i nastri costano poco e con una spesa di sei pens si fa buona figura stese la tovaglia con l'aiuto di belinda cratchit la seconda delle sue figliole anche lei tutta agghindata di nastri mentre il signorino peter cratchit immergeva una forchetta nella pentola delle patate teneva in bocca le punte del suo enorme colletto proprietà privata di bob impressata al suo figlio ed erede in onore del giorno solenne godendo di essere tanto elegante provando forse nel suo intimo il desiderio di mostrarsi con quel popò di biancheria alla passeggiata elegante del parco poi due cratchit più piccoli un ragazzo e una bambina entrarono correndo e gridando che fuori del negozio del rosticcere avevano annusato aroma di oca della loro oca cullandosi in golosi pensieri di salvi e cipolla i giovani cratchit si misero a danzare intorno alla tavola innalzando al cielo le lodi del giovane peter cratchit il quale non privo di orgoglio benché il suo colletto quasi lo soffocasse soffiava sul fuoco soffiò fino a che le ultime patate salirono a galla e picchiando forte al coperchio della pentola chiesero di essere tolte dal fuoco e pelate che cosa sarà mai successo al vostro caro papà disse la signora cratchit e a vostro fratello tiny team e marta che ha già più di mezz'ora di ritardo in confronto dell'altro natale ecco marta mamma disse una fanciulla comparendo sull'uscio proprio in quel momento c'è qui marta mamma gridarono i due giovani cratchit evviva se tu sapessi marta che oca abbiamo beh dio ti benedica mia cara come sei in ritardo disse la signora cratchit baciandola una dozzina di volte e togliendolo lo scialle e la cuffia con amorosa premura avevamo un mucchio di lavoro da finire ieri sera replicò la fanciulla e stamane dovevamo consegnarlo mamma beh pazienza visto che hai potuto venire disse la signora cratchit siediti vicino al fuoco cara e scaldati un po il signore ti benedica no no c'è papà che arriva gridarono i due giovani cratchit che sembravano possedere il dono dell'ubiquità nasconditi marta nasconditi così marta si nascose mentre il piccolo bob il padre entrava con almeno tre piedi di sciarpa che gli pendevano sul petto senza contare la frangia coi suoi abiti lisi fino alla trama ma stirati e spazzolati per apparire decenti e con tiny team sulle spalle ahimè povero tiny team doveva servirsi di una piccola gruccia e le sue gambe erano sostenute da un apparecchio di ferro ebbene dov'è la nostra marta gridò bob cratchit guardandosi intorno non viene disse la signora cratchit non viene esclamò bob perdendo ad un tratto tutta la sua gaiezza era stato il fuocoso destriero di team per tutta la strada della chiesa ed era arrivato a casa scalpitando allegramente non viene il giorno di natale marta non potesse sopportare di vederlo così turbato neppure per burla salto fuori da dietro la porta dello sgabuzzino e corsa ad abbracciarlo mentre i piccoli cratchit si impadronivano di tiny team e lo portavano in cucina a sentire il pudding che bolliva nella pentola e come si è comportato il piccolo team domandò la signora cratchit dopo che ebbe canzonato bob per la sua credulità dopo che bob si fu sfogato ad abbracciare la figlia buono come un angelo disse bob e anche più chissà come può starsene seduto tutto solo per tanto tempo a pensare le cose più strane che mai si siano udite mentre tornavamo a casa mi ha detto che sperava che la gente l'avesse veduto in chiesa perché è uno storpio e la gente vedendolo si sarebbe ricordata almeno nel giorno di natale di chi ha fatto camminare gli storpi e vedere i ciechi a bob tremava la voce mentre raccontava questo e tremò ancora di più quando disse che tiny team stava facendosi ogni giorno più forte e vigoroso si udì il picchiettare della piccola gruccia sul pavimento e subito tiny team entrò scortato fino a suo sgabbellino accanto al fuoco dal fratello e dalla sorella bob allora rivoltati in sui polsini come se povero diavolo questi potessero diventare ancora più lisi confezionò in un boccale una misura a base di gin e di limone la mescolò e la mise sulla griglia a bollire il signorino peter e i due cracit dotati di ubiquità uscirono a ritirare l'oca e presto tornarono portandola in solenne processione il chiasso fu tanto da far pensare che un'oca fosse un uccello dei più rari un fenomeno piumato a paragone del quale un cigno nero sarebbe stato comunissimo e in verità in quella casa un'oca rappresentava qualcosa del genere la signora cracit scaldò a bollore la salsa tenuta pronta in una piccola casseruola il signorino peter passò al setaccio le patate con incredibile vigore la signorina belinda zuccherò la salsa di mele marta spolverò i piatti di portata bob prese con sé a un angolo della tavola tiny team i due giovani cracit misero le seggiole per tutti senza dimenticare se stessi e rimasero di guardia i loro posti ficcandosi il cucchiaio in bocca per non cedere alla tentazione di chiedere ad alta voce loca prima che venisse il loro turno finalmente la portata fu recata in tavola si recitò il rendimento di grazie tutti tenero per un attimo il fiato sospeso mentre la signora cracit esaminando attentamente il coltello da scalco si preparava immergerlo nel petto del volatile quando lo fece e quando il tanto atteso fiotto di ripieno uscì dallo squarcio un mormorio di felicità corse torno torno e perfino tiny team eccitato dall'esempio dei fratelli picchiò sulla tavola col manico del coltello urlando un debole viva non si era mai vista una simile oca bob si disse persuaso che mai un'oca simile fosse finita in pentola tenera e profumata grossa e a buon mercato fu getto dell'ammirazione generale con l'aggiunta della salsa di mele e del purè di patate costituì un desinare più che sufficiente per tutta la famiglia anzi come la signora cracit disse con grande soddisfazione notando un pezzettino di osso rimasto sul piatto non l'avevano nemmeno mangiata tutta eppure ognuno ne aveva avuto a sufficienza specie due piccoli cracit imbottiti fino agli occhi di salvia e di cipolla poi mentre la signorina belinda cambiava i piatti la signora cracit uscì dalla camera sola perché si sentiva troppo nervosa per sopportare la presenza di un qualsiasi testimonio nel momento in cui sformava il pudding da servire a tavola e se non fosse venuto bene e se tirandolo fuori si fosse spezzato e se qualcuno avesse scavalcato il muro del cortile dietro la casa e lo avesse rubato in tanti che si festeggiavano loca a questa supposizione i due cracit allibirono presagiri sciagura balenavano la mente di tutti evviva una gran nuvola di vapore il pudding era uscito dalla forma di rame un buon odore come di giorno di bucato emanava dalla salvietta un odore come se ci fossero un ristorante una pasticceria a porta a porta con una lavanderia che pudding dopo mezzo minuto la signora cracit entrò rossa in viso ma sorridente e trionfante con il pudding simile a una palla di cannone tanto si presentava duro e compatto era tutto macchiettato d'uvetta navigava in un mezzo quarto di cognac fiammante e aveva un rametto di agrifoglio natalizio infilato proprio sulla cima davvero un pudding meraviglioso disse bob cracit e aggiunse con molta serietà che lo considerava il capolavoro della signora cracit da quando si erano sposati la signora cracit disse di poter confessare ora che si era liberata dal peso che aveva sul cuore di aver avuto il dubbio che la farina non fosse sufficiente tutti dissero la loro sul pudding ma nessuno disse o pensò che si trattava di un pudding piuttosto piccolo per una famiglia tanto numerosa sarebbe stata un'eresia e ogni cracit si sarebbe vergognato di accennarla terminato finalmente il pranzo fu tolta la tovaglia la pietra del focolare scopata e il fuoco ravvivato assaggiata e dichiarata perfetta la miscela della brocca mele e arance furono poste sulla tavola e sul fuoco un paiolo pieno di castagne poi tutta la famiglia cracit si accomodò intorno al focolare in quello che bob cracit chiamava un circolo ma che in realtà era solo un mezzo cerchio vicino a bob faceva pompa di sé sul tavolo tutta la cristalleria di famiglia due bicchieri e un vasetto di mostarda senza il manico questi recipienti però non valevano meno di coppe d'oro a contenere la calda bevanda della brocca e bob cominciò a mescere con aria soddisfatta mentre sul fuoco le castagne si spaccavano rumorosamente poi bob propose un brindisi lieto natale a noi tutti i miei cari dio ci benedica e la famiglia fece eco dio benedica ognuno di noi disse tiny team sedeva accanto al padre sopra il suo piccolo sgabello bob stringeva quelle manine scarne nelle sue come se volendo tanto bene a quel bimbo e desiderando conservarselo a suo fianco temesse che qualcuno glielo portasse via spirito chiese scrooge con un interesse quale mai aveva provato dimmi se tiny team vivrà vedo una sedia vuota presso al povero camino rispose il fantasma e un bicchiere senza proprietario conservato religiosamente se il futuro non muterà queste ombre il bimbo morrà no no esclamò scrooge no spirito gentile dimmi che sarà risparmiato se il futuro non muterà queste ombre rispose il fantasma nessuno dei miei successori lo troverà qui dopo tutto se deve morire meglio che così avvenga diminuirà il numero della popolazione superflua udendo le sue parole così citate dallo spirito scrooge abbassò il capo soffocato dal rimorso e dalla pena uomo disse il fantasma se hai un cuore di uomo e non di pietra lascia certo malvagio linguaggio fino a che non saprai quali siano veramente le cose superflue dove si trovano puoi tu forse decidere quali uomini debbano morire e quali vivere può darsi che agli occhi di dio tu sia meno degno di stare al mondo che milioni di creature simili al bimbo di quel pover uomo signore sentire l'insetto che cammina su di una foglia dichiarare che sono troppi i suoi fratelli affamati che si trascinano nella polvere scrooge si umiliò davanti al rimbrotto del fantasma e tremando abbassò gli occhi a terra ma li rialzò subito udendo pronunciare il suo nome e ora al signor scrooge disse bob voglio brindare al signor scrooge patrocinatore di questo banchetto bel patrocinatore davvero esclamò la signora cracit facendosi rossa in viso vorrei averlo qui per servirgli un piattino di mia produzione perché potesse banchettarci e gli augurerei buon appetito mia cara protestò bob davanti ai bambini il giorno di natale proprio deve essere natale certo e la ribatté perché si possa avere voglia di brindare a un essere odioso avaro duro inflessibile come il signor scrooge robert tu sei benissimo chi è nessuno meglio di te può saperlo povero amico mio mia cara insistette dolcemente bob il giorno di natale ebbene allora berrò alla sua salute ma per amor tuo bob e di questo giorno non per lui disse la signora cracit che viva a lungo buon natale e felice anno sarà certo lieto e felice non ne dubito i bambini si unirono al brindisi fu la prima cosa che quel giorno facessero mal volentieri tiny team beve per ultimo ma molto svogliatamente scrooge era l'orco della famiglia era bastato il suo nome a gettare un'ombra sulla gaia combriccola e ci vollerò cinque buoni minuti per dissiparla quando questa si dissipò essi ritrovarono decuplicata la loro allegria non fosse altro che per il sollievo di averla fatta finita con quello scrooge del malaugurio bob cracit affermò che sperava di aver trovato un'occupazione per il signorino peter occupazione che gli avrebbe fruttato nel caso più favorevole ben cinque scellini e sei pense la settimana i due piccoli cracit risero come matti all'idea che peter fosse sul punto di diventare un uomo d'affari e lo stesso peter fissò con aria meditabonda il fuoco dall'alto del suo colletto quasi riflettesse al genere l'investimento cui avrebbe concesso il suo favore quando fosse venuto in possesso di quella rendita stupefacente marta che lavorava come apprendista presso una modista parlò del suo lavoro e delle lunghe ore di applicazione che esso richiedeva poi si rallegrò al pensiero di rimanere a letto fino a tardi l'indomani suo giorno di riposo a casa e raccontò pure come qualche giorno avanti avesse visto una contessa e un lord e come il lord fosse alto circa come peter a queste parole peter tirò su tanto le punte del suo colletto che se foste stati presenti non avreste più potuto vedere la sua testa intanto castagne e caraffa continuavano a girare tiny team canto una canzoncina su un bimbo che si era sperduto nella neve canto con una vocetta mesta ma sai bene non vi era nulla di aristocratico in tutto questo essi non erano belli non erano eleganti le loro scarpe erano ben lungi dall'essere impermeabili all'acqua i loro vestiti erano lisi quelli di peter sembravano usciti dalla bottega di un rigattiere e probabilmente lo erano eppure erano felici riconoscenti buono l'uno con l'altro contenti del presente e quando lo spirito prima di allontanarsi le asperse con le scintille della sua torcia sembrarono esserlo ancora di più si erano già fatti lontani indistinti eppure scrooge continuava a guardarli e fino all'ultimo non distaccò lo sguardo da tiny team si era intanto fatto buio e la neve cadeva fitta passando lungo la strada scrooge lo spirito vedevano brillare meravigliose le luci dei fuochi accesi nelle cucine nei tinelli in ogni sorta di camere qui i guizzi della fiamma rivelavano i preparativi di un desinare intimo quei piatti che si scaldavano al fuoco le pesanti tende rosse pronte a essere tirate per negare l'ingresso al freddo e al buio della via là tutti i bambini si precipitavano fuori nella neve a incontrare le sorelle maritate i fratelli i cugini le zie e gli zii per essere i primi a far loro festa qui ancora attraverso le persiane si vedevano le ombre dei convitati a riunione e là un gruppo di bellissime fanciulle tutte imbacuccate calzate di stivali foderati di pelo correvano leggere chiacchierando tutte insieme da qualche vicino o felice colui che se le fosse viste entrare in casa graziose piccole sirene come tanti raggi di sole a giudicare dal numero delle persone che riempivano la strada dirette a tante amichevoli riunioni si sarebbe detto che nelle case non doveva esserci più rimasto nessuno e invece in ogni casa in attesa dei visitatori si caricavano i camminetti fin quasi a mezza cappa e come ne era contento il fantasma e come esultava come si denudava l'ampio petto e come apriva le capaci mani versando con gesto generoso la benedizione della sua ingenua allegria su tutto ciò che incontrava a suo passaggio perfino il lampionaio che si affrettava a punteggiare le strade in penombra di qualche scintilla di luce e che era già vestito per passare la serata chissà dove rise forte mentre lo spirito lo sfiorò benché il bravo uomo non sapesse di aver come compagnia niente meno che il natale poi senza che lo spirito avesse pronunciato una parola di avvertimento si trovarono sopra una landa livida e deserta sparsa di mostruosi massi di nuda pietra quasi fosse un cimitero di giganti l'acqua dilagava ovunque o sarebbe dilagata se il gelo non l'avesse tenuta prigioniera e nulla cresceva se non muschio stoppie e dura erba a occidente il sole al tramonto aveva lasciata una striscia di rosso porpora che brillò su quella desolazione ancora un istante come un occhio cupo e severo poi la palpebra si abbassò sempre di più e l'occhio si perse nelle fitte tenebre di una notte profonda che posto è questo chiese scrooge un posto dove vivono i minatori coloro che penano nelle viscere della terra rispose lo spirito eppure anche essi mi conoscono guarda una luce brillava dalla finestra di una capanna ed essi si diressero rapidamente a quella volta passarono attraverso i muri di fango e di pietra e trovarono riunita intorno a un fuoco splendente un'allegra compagnia un vecchio vecchio uomo e una vecchissima donna coi loro figli e i figli dei loro figli e in più quelli di un'altra generazione tutti allegramente vestiti nei loro abiti da festa il vecchio con una voce che si udiva appena al di sopra dell'ululare del vento della landa deserta stava cantando una canzone di natale una canzone già vecchia ai tempi in cui egli era stato un bambino ogni tanto gli altri facevano coro quando alzavano la loro voce quella del vecchio acquistava vigore e slancio per poi tornare flebile appena essi si fermavano lo spirito non induggiò qui ma ordinò a scrooge di afferrarsi al suo mantello e passando sopra la landa si affrettò verso dove verso il mare proprio verso il mare con terrore scrooge voltandosi indietro vide le sue spalle l'ultimo lembo di terraferma una spaventosa frangia di scogli e le sue orecchie furono assordate dal rombo che faceva l'acqua rotolando e urlando e infuriando fra terribili caverne che essa stessa aveva scavato quasi volesse perforare la terra costruito a qualche miglio dalla riva sopra un pauroso banco di scogli sommersi sui quali tutto l'anno le onde si gettavano e si frangevano si ergeva un faro solitario grandi mucchi di alghe si accumulavano alla sua base e le procellarie nate si sarebbe detto nel vento come le alghe nascono nell'acqua si alzavano e ripiombavano intorno a esso come quelle onde che esse volando sfioravano ma anche lì i due uomini che sorvegliavano la lanterna avevano acceso il fuoco che attraverso le feritoie del grosso muro di pietra irradiava all'esterno sul mare spaventoso un raggio di luce chiara due uomini seduti a una tavola si auguravano reciprocamente il buon natale stringendosi le mani callose al di sopra del rozzo tavolo e brindando quei loro bicchierotti di grog uno di essi il più vecchio dal viso tutto rugoso e segnato dalle intemperie come avrebbe potuto esserlo la figura di prua di una vecchia nave in tono a una gagliarda canzone simile all'urlo di un uragano di nuovo il fantasma volò sul mare agitato avanti sempre più avanti finché come egli disse a scrooge arrivati molto lontano da ogni costa avvistarono una nave si fermarono accanto al timoniere alla barra al marinaio sulla coffa agli ufficiali alla bussola ombre scure incerte al loro posto di lavoro ognuno di essi canticchiava un canto di natale aveva dentro al cuore un pensiero natalizio o parlava sottovoce sui compagni di passati natali l'anima piena di nostalgia e di speranza tesa verso la casa ogni uomo a bordo sveglio addormentato buono cattivo aveva quel giorno più che in qualsiasi altro una parola gentile per i compagni aveva partecipato in qualche modo alla festività e aveva ricordato i suoi cari lontani certo che con altrettanto affetto essi pensavano a lui grande fu la sorpresa di scrooge mentre ascoltava il gemito del vento e pensava che cosa solenne fosse l'andare così fra solitudini tenebrose sopra abissi sconosciuti le profondità dei quali celavano segreti impenetrabili quanto la morte grande fu la sorpresa di scrooge sprofondato in questo pensiero di udire un'allegra risata e la sua sorpresa aumentò quando si accorse che la risata era quella di suo nipote quando capì di trovarsi in una stanza chiara comoda e luminosa lo spirito sorrideva al suo fianco e fissava quello stesso nipote con dolcezza e compiacimento rideva il nipote di scrooge se vi capitasse di conoscere per un caso inverosimile un uomo dalla risata più facile del nipote di scrooge tutto quello che posso dire che vorrei poterlo conoscere anch'io presentatemelo e io coltiverò la sua conoscenza e cosa giusta ponderate e nobile che se la malattia e dolore sono contagiosi non vi sia nulla al mondo di così irresistibilmente contagioso come il riso e il buon umore quando il nipote di scrooge rideva in quella maniera torcendosi tutto e agitando di qua e di là la testa e atteggiando il viso alle smorfe più buffe sua moglie la nipote di scrooge rideva altrettanto di cuore e gli amici riuniti intorno a loro per non essere da meno ridevano essi pure fino alle lacrime ha 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 diceva che natale è una sciocchezza vero come è vero che sono vivo rideva il nipote di scrooge e ci credeva per giunta bella vergogna per lui fred esclamò indignata la nipote di scrooge benedette donne non fanno niente a metà prendono tutto terribilmente sul serio e l'era molto bellina direi esageratamente bellina un visetto stupendo pieno di fossette dall'espressione ingenua e stupita una boccuccia come un frutto maturo che sembrava fatta apposta per essere baciata e certamente lo era e il mento costellato di buchetti che si dissolvevano gli uni negli altri quando rideva gli occhi più luminosi che mai si potessero vedere in viso una deliziosa creatura era proprio quella che si sarebbe potuto chiamare una donnina provocante ma tale da soddisfare sotto tutti i punti di vista è un tipo buffo disse il nipote di scrooge questa è la verità e non così simpatico come potrebbe esserlo in ogni modo i suoi difetti hanno in sé la loro giusta punizione e io non ho niente contro di lui sono sicura che è molto ricco fred insinuò la nipote di scrooge perlomeno tu lo hai sempre sostenuto e con questo mia cara ribatte il nipote di scrooge la sua ricchezza non gli serve non fa del bene a nessuno non sa rendersi la vita comoda né alla soddisfazione di pensare che un giorno gli succederà di farne beneficiare a noi io non lo posso soffrire osservò la nipote di scrooge e le sorelle di questa nipote tutte le altre signore presenti espressero la stessa opinione oh io sì invece disse il nipote di scrooge sono spiacente per il suo contegno ma non potrei essere in collera con lui neanche se mi ci provassi chi soffre in fin dei conti dei suoi malsani capricci lui stesso sempre vedete per esempio si mette in testa di non provare simpatia per noi di non voler venire a pranzare da noi e con questo non ha perso poi un grande pranzo un ottimo pranzo invece ribatte la nipote di scrooge tutti approvarono e si deve ammettere che fossero dei giudici competenti visto che avevano da poco finito di pranzare la frutta stava ancora sulla tavola e tutti si erano appena seduti intorno al fuoco bene disse il nipote di scrooge mi fa piacere sentirlo perché io personalmente non ho una gran fiducia in certe giovani massaie che cosa ne pensi topper topper aveva evidentemente messo gli occhi su una delle sorelle della nipote di scrooge perché rispose che uno scapolo era un povero disgraziato che non aveva diritto di esprimersi in proposito a queste parole la sorella della nipote di scrooge la grassottella quella col collettino di pizzo non quella con le rose diventò rossa avanti fred disse la nipote di scrooge battendo le mani non finisce mai quello che comincia a dire è un tipo buffo il nipote di scrooge si abbandonò a un'altra risata e agli altri fu impossibile non subirne il contagio la sorella grassottella ci si provò con impegno sali aromatici e tutto ma l'esempio di lui fu seguito all'unanimità stavo soltanto per dire continuò il nipote di scrooge che la conseguenza dell'antipatia che ha per noi del suo rifiuto a stare un po in allegra compagnia è che egli finisce per perdere momenti piacevoli che non gli farebbero male di certo indiscutibile che perde una compagnia più piacevole di quella che possono dargli i suoi pensieri tanto nel suo ufficio ammuffito quanto nel suo appartamento pieno di polvere ma io voglio continuare a offrirgli la stessa opportunità tutti gli anni gli piaccia o no perché ho pietà di lui può burlarsi quanto vuole del natale ma lo sfido a impedirsi di prenderlo in una certa considerazione se vedrà che io un anno dopo l'altro andrò da lui col medesimo affetto a dirgli come va zio scrooge se questo lo dovesse soltanto indurre a lasciare una cinquantina di sterline a quel suo povero impiegato sarebbe già qualcosa ieri mi sembra di avergli dato una certa scrollatina tocco agli altri ridere adesso all'idea che egli avesse dato una scrollatina a scrooge ma essendo un brav uomo che non badava tanto alla ragione della risata quanto alla risata in se stessa il nipote di scrooge li incoraggiò a essere allegri facendo girare generosamente la bottiglia dopo il tè fecero un po di musica era una famiglia di musicomani che sapevano il fatto loro quando cantavano un ritornello o una canzoncina ve lo posso assicurare topper specialmente che sapeva raggiungere le note basse come un artista di professione e senza che le grosse vene della sua fronte si gonfiassero che il suo viso si facesse cianotico per lo sforzo la nipote di scrooge suonava bene l'arpa e suonò fra l'altro una rietta semplice e breve una cosettina da nulla che avreste potuto imparare a fischiettare in due minuti la rietta era stata familiare a quella bambina che un tempo era andata a togliere scrooge dal collegio così come il fantasma dei natali passati aveva ricordato al suono di questa musica tutto quello che il fantasma le aveva mostrato tornò alla sua mente ed egli si sentì intenerire sempre più e pensò che se negli anni addietro avesse udito quella musica forse avrebbe potuto coltivare in sé una certa dolcezza e provare qualche gioia di vivere prima di ricorrere alla zappa del becchino che aveva sepolto marley ma non tutta la sera fu dedicata alla musica dopo un poco si misero a giocare a penitenza giacché è bene tornare qualche volta a bambini specie a natale visto che il suo grande fondatore era stato egli stesso un bambino un momento ci fu prima una partita di mosca cieca per forza doveva esserci e io non credo che quando fu il suo turno topper fosse realmente cieco più di quanto non creda che ci vedesse con la punta delle scarpe secondo me c'era un'intesa fra lui e il nipote di scrooge e lo spirito lo sapeva la maniera con la quale rincorse la sorella grassottella col coltellino di pizzo era un traggio alla credulità umana sia che ella rovesciasse gli arnesi per il fuoco sia che inciampasse nelle seggio le cadesse addosso al piano si seppellisse nelle tende dovunque egli arrivava era sempre dove si trovava la sorella grassottella non si curava di acchiappare altri se lo si urtava a bella posta come qualcuno fece abbozzava il gesto di prendere ma subito deviava nella direzione della sorella grassottella e la protestò più volte che non era giusto e aveva ragione ma quando alla fine egli l'acchiappò quando nonostante tutto il frusciare di seta di lei e le sue rapide finte egli le ebbe costrette in un angoletto senza scampo la sua condotta fu davvero esecrabile con il pretesto di non riconoscerla con il pretesto che per riconoscerla fosse necessario accarezzarle i capelli e poi accertarsi della sua identità infilandole un certo anello al dito e una certa collana al collo si comportò in maniera davvero scandalosa sono certo che la ragazza glielo disse quando si trovarono insieme confidenzialmente dietro le tende di una finestra mentre un'altra mosca cieca si svolgeva nel tinello la nipote di scrooge non aveva preso parte la mosca cieca ma era rimasta seduta su di una comoda poltrone in un angolo i piedi appoggiati a uno sgabello e scrooge e il fantasma si erano messi dietro di lei vicinissimi prese però parte ad altri giochi dimostrando chiaramente quanto le piaceva farcisi ammirare nel come dove quando con segreta gioia del nipote di scrooge batte le sorelle che pure erano ragazze svelte come avrebbe potuto confermare topper ci fossero state lì altre venti persone giovani o vecchie tutte si sarebbero messe a giocare e così fece scrooge dimenticando nella fuga del gioco che la sua voce non aveva suono per i loro orecchi gridava spesso forte le sue risposte e qualche volta anche ci azzeccava dato che nemmeno l'ago più acuto il migliore di white chapel garantito non spuntabile era più acuto di scrooge per quanto ottuso gli piacesse di proclamarsi il fantasma molto lieto di vederlo in quella disposizione di spirito lo guardava con tanta benevolenza che scrooge osò chiedergli come avrebbe potuto fare un bambino se gli permetteva di restare fino alla partenza degli ospiti ma lo spirito rispose che non era possibile ora cominciano un gioco nuovo un'altra mezz'ora spirito mezz'oretta sola si trattava di un gioco chiamato sì e no il nipote di scrooge doveva pensare a qualcosa e gli altri dovevano indovinare di che cosa si trattasse e gli rispondeva alle domande soltanto con un sì o con un no a seconda dei casi il vivace fuoco di fila delle domande gli strappò che aveva pensato a un animale un animale vivente un animale piuttosto sgradevole e selvatico un animale che qualche volta grugniva e rugiva e qualche volta parlava un animale che viveva a londra camminava nelle strade non era mostrato in pubblico come una curiosità e non era portato in giro alla catena non viveva in un serraglio non era ucciso al macello un animale che non era né cavallo né asino né mucca né toro né tigre né cane né maiale né gatto né orso a ogni domanda che gli rivolgevano il nipote di scrooge scoppiava in una nuova risata come se gli avessero fatto il solletico e spesso si alzava dal divano e batteva i piedi per terra alla fine la cognata grassottella fu presa da una crisi simile alla sua e gridò ho indovinato so che cosa è fred so che cosa è che cosa è tuo zio scrooge esattissimo tutti provarono un profondo senso di ammirazione ma qualcuno obiettò che la risposta alla domanda e un orso avrebbe dovuto essere sì dato che la risposta negativa era stata sufficiente a cancellare scrooge dalla mente ammettendo che qualcuno potesse averci pensato in ogni modo ha contribuito a farci stare allegri disse fred e sarebbe vera ingratitudine non bere alla sua salute ecco un bicchiere di vin caldo per tutti propongo un brindisi in onore dello zio scrooge d'accordo allo zio scrooge gridarono gli altri buon natale e felice anno al vecchio comunque egli sia disse il nipote di scrooge non accetterebbe l'augurio da me ma possa esso giungergli in qualche modo allo zio scrooge lo zio scrooge aveva poco a poco sentito il suo cuore farsi tanto leggero che avrebbe risposto all'ignara compagnia ricambiando l'augurio e ringraziando con la sua voce non udibile se il fantasma gliele avesse dato il tempo ma l'intera scena si dileguò non appena il nipote ebbe pronunciato quelle ultime parole e scrooge lo spirito si rimisero in viaggio videro molti paesi andarono molto lontano visitarono molte case e sempre con lieti risultati lo spirito sostò presso letti di infermi ed essi si rincuorarono in lontani paesi e questi parvero farsi vicini a casa presso uomini che lottavano nelle difficoltà ed essi confortati dalla speranza si fecero pazienti presso la povertà e questa divenne ricchezza negli ospizi negli ospedali nelle prigioni in tutti i rifugi della miseria ovunque l'uomo sicuro della sua transitoria autorità non aveva chiuso le porte tanto da poter escludere lo spirito esso entrò lasciando la sua benedizione e insegnando a scrooge i suoi precetti fu una notte lunga seppur fu una sola notte scrooge aveva i suoi dubbi in proposito perché tutte le notti di natale gli apparvero condensate nello spazio di tempo che passarono insieme era anche strano che mentre l'aspetto di scrooge non mutava per nulla lo spirito si andasse facendo via via più vecchio decisamente più vecchio scrooge aveva osservato questo fenomeno ma non ne parlò fino a quando uscendo da una festa di bambini che si teneva in onore dell'epifania e guardando lo spirito si accorse che i suoi capelli si erano fatti grigi la vita degli spiriti è dunque così breve domandò scrooge la mia vita su questa terra è molto breve rispose il fantasma terminerà questa notte stanotte esclamò scrooge stanotte a mezzanotte ahimè l'ora si avvicina in quel momento le campane suonarono le undici e tre quarti scusami se ti faccio una domanda sciocca disse scrooge osservando attentamente la veste dello spirito ma vedo qualcosa di strano qualcosa che non ti appartiene uscire dall'orlo della tua tunica si tratta di un piede o di un artiglio a giudicare dalla carne che lo ricopre potrebbe essere un artiglio fu la malinconica risposta dello spirito guarda dalle pieghe del suo manto fece uscire due sciagurati abietti spaventosi orrendi miserabili bambini che si inginocchiarono i suoi piedi e si strinsero i lembi della sua veste uomo guarda guarda i miei piedi esclamò il fantasma erano un bimbo una bimba gialli magri stracciati accigliati con un'espressione cupe feroce e insieme prostrati invece della grazia giovanile che avrebbe dovuto modellare i loro volti e ravvivarli con la freschezza dei suoi colori una mano vizza e rinsecchita come un velo di vecchiaia li aveva schiacciati smagriti intristiti negli occhi dove gli angeli avrebbero potuto avere gloriosa dimora un demone stava in agguato e occhieggiava minaccioso in nessun momento della sua evoluzione del suo avvilimento della sua perversione in nessun stadio della sua misteriosa creazione l'umanità aveva avuto mostri così orribili e spaventosi scrooge indietreggiò pallido di terrore poi per non offendere lo spirito che gliele aveva presentati cercò di dire che erano due graziosi bambini ma le parole gli morirono in gola per non farsi complici di una così smisurata menzogna spirito sono forse i tuoi figli riuscì tuttavia a balbettare sono figli dell'uomo rispose lo spirito abbassando lo sguardo su di loro e si stringono a me per accusare i loro genitori questo bambino e l'ignoranza questa bambina la miseria guardati da loro e da tutta la loro specie ma soprattutto guardati da questo ragazzo perché sulla sua fronte vedo scritta una sentenza di condanna a meno che quelle parole non vengano cancellate negalo pure gridò lo spirito stendendo il pugno in direzione della città uccidi pure coloro che osano parlarti chiaro tieni pur conto solo dei tuoi scopi egoisti peggiora sempre le cose e aspetta pure la fine ma non c'è scampo non ci sono risorse esclamò scrooge non ci sono forse le prigioni disse lo spirito rivolgendo per l'ultima volta contro di lui le sue stesse parole non ci sono forse gli ospizi il campanile batte le 12 scrooge si guardò in giro cercando il fantasma ma non lo vide come l'ultimo colpo cessò di vibrare ricordo la predizione del vecchio jacob marley e alzando gli occhi scorse un solenne spettro drappeggiato e incappucciato che strisciando lungo il suolo come nebbia avanzava verso di lui grazie a tutti grazie a tutti